ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su i want pizza e diciamo che bisogna cucinare delle pizze per poi portarle a guadagnare quindi iniziamo 3 2 1 via ok perfetto quindi tutto start bene prendiamo le pizze per rendere tutto in posto schiacciato così dopo facciamo il borde tutto acqua ora il bordeaux perfetto mettiamo il pomodoro no no perché nel quello che mi ha messo ok ora così e cuociamo no ok perfetto bene abbiamo portati allo chef che si potrà comprare cose vabbè dobbiamo comprare clienti mi sa se abbiamo 50 soldi dobbiamo comprare clienti voilà poi intanto queste quante mangi ci sono vabbè dobbiamo anche portare a consegnare tutto così dopo c'è guadagnia qua nuovo livello vediamo questo livello cosa abbiamo fatto da 50 soldi che sempre anche se ne abbiamo zero per aver comprato 50 e ora abbiamo ottenuto altri 50 soldi ok tap to start voilà 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 e così poi cosa e voilà salsa di pomodoro così 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 voilà così mamma mia qualità che belle pizze tutto 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 tutti 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 pizza napoli peppe rope pepere qua 100 soldi purtroppo no poi qua ecco da dove si prendono i soldi è 158 soldi ovviamente a volte ci sono anche gli annunci purtroppo vabbè prendiamo i soldi no grazie non voglio votarlo così voilà 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 perfetto così così no perché non ho messo la salsa aveva tanto si appaggredono ecco c'è ma cos'è a tipo un tavolino di decorazione per la pizza allora ah ma devo anche servire il pizza clienti quando compro vabbè allora compro altri clienti ah no non ne riesco qua intanto così poi qua le consegno qua mi riprendo i soldi e voilà 201 soldi fai così quella ok bene prendiamo e cos'è hanno niente da un pizzo vabbè così 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 salsa di pomodoro no ok salsa di pomodoro così ovviamente ci metto i tavolini che fanno costarli di più no perché quando venduta vabbè e il cuore oh mio dio di nuovo da raffreddore così e voilà no alcune non sono cotte vabbè ah no si sono cotte magicamente c'è magia ok così queste cose andiamo per quale non cotte otteniamo i soldi e voilà andiamo qua e bene purtroppo gli annunci non li posso neanche comandare ok perché se mio fratello non voleva cioè non volesse il router io potrei togliere il wifi ok 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 voilà e tavolini che li fan costare di più e piccante ora cociano pure cociano ma guarda qualche roba del pizze proprio ottima stavolta abbia fatto ma voilà o mio dio ok allora parte il cliente ecco qua tieni qua che ci prendeva i soldi e queste cose segnalo guarda qua quanto ci guadagnano e guala portiamo quando sono arrivato avanti bene quindi adesso così ora prendiamo tutti i soldi è così quella no gratis no no a me dobbiamo pagare mica do le pizze gratis cosa no no ma perché becco i cosi rossi no 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 sto prendendo pizze nooo ho perso un bel po di pizze ok tieni voilà poi non si può uscire no non si può ok ma scusa questo è un braccio staccato vabbè ok poi qua così così allora un'altra ci vuole giusto poi come ci prendiamo i soldi beh non sono come prima però vabbè contento si dai sentati comunque bravi vuole che così e cuore cuore questo ok perfetto così ora cuore questo ora cuore di dove così ecco qua ora così a finalmente posso comprare il cliente ecco c'è una pizza pure per te ma ci sono anche le cemelle vabbè ok ora così e voilà quante abbiamo guadagnato eeeh anche qua tantissimo stavolta vediamo dove arriviamo beh beh non come prima non come quella volta che non è arrivato tantissimo però ok perfetto così così perfetto salsa così no no ok così ok così no ah no ok si 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 è giusto qua ok voilà ecco qua i tavoli di tutto portiamo qua e pure qua e poi le spediamo ok prendiamo tutti i soldi così vediamo quanto siamo arrivati beh qua però vabbè ecco qua una nuova pizza vabbè direi che per oggi ci possiamo fermare qui fatemi sapere se volete che continui a questo gioco tipo mettete like e ricordatevi che ovviamente per vedere il contenuto dei giochi e robe del genere oppure altri giochi altri video divertenti dovete iscrivervi al canale e direi che per oggi ci possiamo fermare qui eeeh ciao no 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 Grazie.